La scogliera che si estende di fronte all'hotel Girasole a Marina di Pulsano, uno dei luoghi più suggestivi della litoranea. Mare cristallino, fondali limpidi, scorci, mozzafiato. In estate sempre meta di turisti e non che vogliono gustare la bellezza del nostro mare. È usata tutto l'anno per selfie e fotografie panoramiche di grande impatto. Peccato però che la ringhiera che la delimita e a cui spesso ci si appoggia per ammirare la vista incantevole, si è ridotta in condizioni pessime. Il metallo è quasi del tutto arrugginito, in alcuni punti addirittura rotto e ridotto in schegge taglienti e pericolosissime soprattutto per i bambini e per chi di sera, quando la visibilità è ridotta, non riuscisse a distinguere lo stato della ringhiera. Ancora più pericolose le condizioni strutturali, in un punto la recinzione è stata sostituita con una transenna in plastica. In altre zone i pilastri sono divelti dal cemento, frantumato in più pezzi, mettendo così a rischio la tenuta della struttura, il cui scopo principale è proprio quello di evitare cadute in fauste sulla scogliera sottostante. Insomma, quello che era uno dei punti più gettonati della litoranea pulsanese è diventato un rudere pericolante. Auspichiamo che chi di dovere possa porre rimedio nel minor tempo possibile.